ciao a tutti oggi con questo brevissimo tutorial andiamo a vedere come si realizza questo particolare punto all'uncinetto che è il punto nevada ed è un punto perfetto per la lavorazione di copertine giacchine tappeti tutti quei progetti che hanno bisogno di una lavorazione compatta perché questo non è un punto morbidissimo quindi non è adatto a fare per esempio una maglietta o uno scaldacollo perché rimane abbastanza rigido però come vi dicevo appunto prima è perfetto per la realizzazione delle copertine andiamo quindi subito a vedere come si realizza allora il punto noi lo montiamo su un numero di maglie indifferente nel senso che non ha un multiplo quindi noi possiamo farlo su 10 20 30 35 quante vogliamo andiamo a lavorare il primo giro quindi la prima riga la lavoriamo a maglia bassissima quindi facciamo una catenella aggiuntiva poi entriamo nel punto e lavoriamo la maglia bassissima entriamo nel punto maglia bassissima e ripetiamo il punto sino al termine della riga adesso dobbiamo andare a lavorare in costa davanti quindi noi abbiamo lavorato le nostre maglie bassissime e abbiamo le due costine nel punto quindi questa e questa se qui sono le due costine noi andremo a lavorare prendendo solo questa perché quella che abbiamo davanti a noi in pratica facciamo una catenella aggiuntiva saltiamo la prima maglia di base e nella seconda andiamo a prendere la catenella che sta davanti a noi praticamente che lavoriamo maglia bassa entriamo nella costina davanti e lavoriamo maglia bassa costina maglia bassa costina maglia bassa sino al termine della riga adesso andiamo a lavorare invece in costa retro il punto lavorato in costa davanti alle due costine questa e questa noi andiamo a lavorare in questa adesso quindi facciamo sempre una catenella iniziale che va a sostituirmi il primo punto mi agevolo e poi prendiamo il punto che va verso l'esterno in costa retro e nuovamente facciamo la nostra maglia bassa costa retro, maglia bassa, costa retro, maglia bassa, costa retro, maglia bassa e procediamo così sino al termine della riga una volta che avremo terminato la riga in costa retro procediamo con lavorare tre righe di andata e ritorno a maglia bassissima quindi facciamo sempre una catenella iniziale saltiamo la prima maglia e poi dalla seconda in poi a maglia bassissima prendendo ovviamente però questa volta tutto il punto quindi prendiamo tutto il punto e lavoriamo la maglia bassissima così e lo facciamo per tre righe di andata e ritorno terminate le tre righe di maglia bassissima facciamo una catenella saltiamo la prima maglia di base e andiamo nuovamente a lavorare in costa retro quindi prendendo la costina retro del punto saltiamo la prima maglia di base e poi andiamo a lavorare a maglia bassa normale però prendendo solo la costina esterna del punto così come abbiamo fatto prima e procedete così sino al termine della riga dopodiché andrete a realizzare ancora tre righe andate e ritorno a maglia bassissima quindi tre righe maglia bassissima, una riga di maglia bassa in costa retro e altre tre righe di maglia bassissima terminate le ulteriori tre righe a maglia bassissima procediamo con un'altra riga in costa retro quindi andiamo nuovamente a prendere, facciamo sempre la catenella iniziale saltiamo la prima maglia e andiamo sempre a prendere la maglia in costa retro quindi la costina esterna, più esterna del punto procedo così per una riga, una volta terminata la riga in costa retro andiamo a lavorarne 4 in costa davanti quindi a questo punto facciamo sempre la catenella iniziale e saltiamo sempre la prima maglia di base a questo punto la costina da prendere non sarà più questa ma questa quindi quella verso l'interno e andiamo a lavorare tutta la riga in costa davanti e ripetiamo per questa riga e per altre tre quindi in tutto adesso lavoriamo 4 righe in costa davanti terminate le 4 righe in costa davanti procediamo con 3 righe a maglia bassissima quindi nuovamente catenella saltiamo la prima maglia di base e cominciamo con la maglia bassissima sempre prendendo tutte e due le costine del punto quindi tutto il punto intero e facciamo la nostra maglia bassissima per altre tre righe entriamo in tutto il punto maglia bassissima rimanete morbide quando fate più righe di maglia bassissima una dietro l'altra siccome è un punto che tende ad indurirsi quindi tende a stringere quando fate la maglia bassissima cercate di rimanere belle morbide nella lavorazione così che nel giro nella riga successiva sarete agevolate l'ultima riga è nuovamente una riga in costa retro quindi catenella e saltiamo la prima maglia di base e poi andiamo a lavorare in costa retro quindi prendendo facendo la maglia bassa prendendo la costina retro del punto così come abbiamo fatto sino adesso quando abbiamo lavorato ovviamente in costa retro e procedete così per tutta la riga ed eccolo come si presenta terminato ovviamente voi andrete avanti ripartendo dalla riga dalla prima riga che abbiamo fatto dopo le catenelle quindi la riga di maglia bassissima poi farete la riga di maglia in costa presa davanti la riga di maglia in costa presa dietro tre righe di maglia bassissima una riga di maglia bassa in costa retro tre righe di maglia bassissima una riga di costa retro quattro righe di costa davanti tre righe di maglia bassissima e l'ultima riga di costa dietro l'effetto di questa lavorazione è un effetto molto compatto che voi potete utilizzare tranquillamente per realizzare delle copertine e verranno molto belle se poi soprattutto decidete di fare le righe in maglia bassissima di un colore e il resto della lavorazione con un altro colore bicolore viene anche molto molto bene ed è un punto datissimo sia appunto come vi dicevo a coperte giacchine ma anche a dei tappeti se avete fatto un tappeto realizzato con questo punto magari un filato un pochino più grande viene molto molto bello bene a questo punto il piccolissimo brevissimo tutorial di oggi è terminato io come al solito spero di avervi fatto a cosa gradita nel farvi vedere la realizzazione di questo nuovo punto come al solito vi ringrazio per avermi seguito vi aspetto tutti sul gruppo di facebook gli amici dell'angolo di Chris vi mando un grosso bacio e vi aspetto al prossimo tutorial ciao